Trovo simbolico che oggi, nella riunione del Collegio, il Presidente Juncker presenterà la comunicazione sulla flessibilità e il fondo architrave strategica degli investimenti del piano per gli investimenti. Due operazioni su cui il nostro giudizio è un giudizio positivo. Riconosciamo che stiamo andando nella giusta direzione. A nostro giudizio si deve fare ancora di più e siamo pronti a fare la nostra parte e siamo pronti ad essere generosi con il fondo e siamo pronti a credere profondamente nell'investimento sulla flessibilità. Anche perché se non ci fosse stata flessibilità, tanti dei Paesi da cui proveniamo e provenite non avrebbero oggi le condizioni economiche che hanno. Se non ci fosse stata la flessibilità la ricostruzione in Germania non sarebbe stata così semplice. Se non ci fosse stata la flessibilità la politica sarebbe oggi cancellata da quest'Aula.